Ocean Cleaner ha vinto il premio speciale gruppo Acea per il miglior cortometraggio suriuso delle risorse idriche in concorso all'interno del contest in mille volti dell'acqua. Girato da regista Davide Salucci, racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per andare a pulire i grandi oceani, il vincitore Davide Salucci. I robottini mi facevano sempre un po' tristezza perché lavoravano in continuazione, quelli che vedevo insomma nelle case dei miei amici che hanno una piscina e dall'altro però facevano un lavoro molto utile e quindi ho detto sarebbe bellissimo usare un robottino per renderlo protagonista di una storia e io sono un grande fan di Wall-E e lì sono riusciti perfettamente a dare un carattere a un oggetto inanimato e quindi l'obiettivo era quello di riuscire a fare una cosa di quel tipo. Il secondo posto, ex aequo, è andato a Keep Cool, Keep Full di Simone Tosi e a Quei Due di Martina Cazzi. L'evento si è svolto durante la serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma. Le due giurie, una tecnica composta dai vertici a CEA e da esperti del Centro Sperimentale di Cinematografia e una formata dai dipendenti dell'azienda, li hanno selezionati tra gli 86 lavori presentati al contest, creato per sensibilizzare l'opinione pubblica al riuso delle risorse idriche e raccontare l'acqua ai tempi del cambiamento climatico. L'amministratore delegato di ACEA, Fabrizio Palermo. Sul tema dell'idrico abbiamo voluto rafforzare legando il tema dell'acqua al cinema per due motivi, che sono il primo che il cinema spesso è precursore di quelli che sono dei trend e sicuramente quello della conservazione della risorsa idrica sta diventando sempre più un tema a livello planetario e dell'altro il fatto che poi anche banalmente per produrre ormai anche i film dal punto di vista digitale c'è un tema di uso dei server, di uso di tutta la tecnologia che sono i grossi consumatori di acqua.